Appena un anno fa era stato condannato per sequestro di persona, rapina e violenza sessuale aggravata. Condannato a due anni e sei mesi, rimase in cella solo quattro giorni. Appena un anno di arresti domiciliari e poi libertà con obbligo di dimora. Obbligo che non gli ha impedito di tornare a colpire. Sergio Palumbo, 26 anni, sposato e con due bambini, cocainomane la notte di lunedì scorso, torna all'attacco con modalità tanto violente quanto ingegnose. E per una giovane donna che aveva appena festeggiato il suo compleanno e stava rientrando a casa, è una notte da incubo. Palumbo alle due di notte si pone al centro della carreggiata e all'arrivo dell'auto guidata dalla donna sola in macchina, si sbraccia per chiedere aiuto. Dice di avere bisogno di chiamare i soccorsi perché la moglie sta male e appena può apre lo sportello, afferra il telefono e minaccia la donna con una grossa pietra. Quindi una notte di violenza che gli investigatori del racconto della donna riscontrano in ogni elemento e ricostruiscono nel dettaglio. Dopo la notte incubo, alle 5 del mattino, la vittima per la paura e lo shock per la violenza subita non chiama la polizia ma chiede aiuto agli amici con i quali ha trascorso il suo compleanno. Loro stanno dormendo tutti, i telefoni sono senza suoneria, la donna decide di inviare il messaggio vocale all'amica, che le aveva organizzato la festa. In quel messaggio trova la forza di raccontare tutto ma l'amica dorme, solo qualche ora dopo ascolta i messaggi e subito si affretta a raggiungerla, ma la ragazza è già in questura a Ragusa. Non avendo trovato gli amici è costretta a chiamare i genitori con i quali convive ma che non voleva far preoccupare. La donna è ferma in macchina, i familiari la raggiungono e la portano in ospedale, i medici chiamano la polizia, scattano le indagini lampo, le poliziotte che ascoltano il racconto drammatico della giovane donna, chiedono e ottengono tutti i dettagli utili. Ed è grazie a questi che l'analisi della banca restringe il campo ad un gruppo di sospettabili e la vittima riconosce in foto il suo aguzzino. Appena 12 ore dopo, gli agenti fanno irruzione in casa di Palumbo e prendono gli indumenti che indossava la notte prima, quindi il prelievo di campioni di liquidi biologici per analizzare il DNA e il riscontro sulle trazie rimaste nell'auto della vittima sottoposta alle violenze. Riscontro pieno ed anche le telecamere di sorveglianza esistenti nei luoghi e lungo il tragitto descritti dalla vittima hanno confermato puntualmente ogni elemento del racconto della donna. Quindi l'arresto. L'uomo cammina in una strada vicino alla sua abitazione quando alla vista dell'auto della polizia tenta di scappare ma è bloccato. La procura convalida il fermo e chiede l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che il GIP emette. Sergio Palumbo, arrestato per vari furti a scoglitti già due anni fa, poi arrestato e condannato per rapine e violenza sessuale lo scorso anno, è stato sottoposto ad interrogatorio ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Un'operazione investigativa brillante ad opera della squadra mobile che assicura alla giustizia un criminale pericoloso ad alta propensione e di recidività. Appena lo scorso anno era stato condannato per avere violentato e rapinato una donna ragusa, anche se in quel caso, prima che la violenza potesse consumarsi fino alle estreme conseguenze, la donna era riuscita a divincolarsi e a fuggire. Non è improbabile che l'uomo sia autore di altri reati simili, quindi l'appello da parte della squadra mobile a persone vittime o a conoscenza di episodi simili in cui appaiono verosimili le impronte delle scorribande del vittoriese appena arrestato a prendere contatti con gli uffici per le segnalazioni utili. Il numero è 0932 673 696.